Da un lato ci sono i dipendenti della Bistefani di Villanova Monferrato nel Casalese, dall'altro gli autisti del gruppo Gavio che ha sede nel Tortonese e che occupa per questo comparto fra Piemonte e Lombardia 1280 autotrasportatori. La parola è vertenza, un termine che purtroppo è divenuto in questi anni di uso comune nella contrattazione tra le proprietà che dichiarano crisi e i lavoratori. Negli ultimi giorni ha tenuto banco la vicenda Bauli, direttamente collegata alla realtà di Casale Monferrato e allo stabilimento della Bistefani, marchio acquisito a suo tempo dal gruppo di Verona che ora ha annunciato di voler chiudere la fabbrica di biscotti di Villanova. Ieri si è svolto a Palazzo San Giorgio un incontro tra delegazioni sindacali, alcuni rappresentanti dei lavoratori, i sindaci di Casale, Villanova, Trino, Balzola e Stroppiana. Sul tavolo di discussione ci sono due piani per cercare di dare una svolta in positivo alla situazione. C'è la volontà di esortare la Bauli a rivedere le proprie decisioni che contemplano il trasferimento a Verona di 144 lavoratori. Il fatto è che si teme che questa strada resti inascoltata. L'altra via da percorrere è aprire un tavolo nazionale finalizzato a far rispettare i patti stretti dall'azienda, auspicando di attirare poi un'altra azienda che possa subentrare alla Bauli qualora non voglia rimanere dov'è. Quest'operazione permetterebbe di prendere tempo anche se la preoccupazione resta alta e nel frattempo non si è potuto far altro che proclamare 8 ore di sciopero per giorno il 30 e il 31 marzo, con presidio davanti alla sede di Confindustria. L'altra avvertenza riguarda gli autisti del gruppo Gavio che lamentano il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto ormai da due anni. Il punto è stato fatto nei locali della UIL di Alessandria, alla presenza, oltre che dei delegati aziendali, anche del segretario regionale della UIL Trasporti, Gerargio Migliaccio, e dei segretari provinciali di Alessandria e Novara, Alessandro Porta e Gian Mario Statella. E poi sono stati ripresi i temi collegati alla cosiddetta miscela accidentale, i 45 minuti di recupero dello stato psicofisico fra un raggio e l'altro e l'uso eccessivo di autisti esterni provenienti dall'Est. La discussione è più che aperta e il prossimo 29 marzo sarà la UIL di Milano a convocare un direttivo nazionale insieme agli altri due sindacati CGL e CISL.